Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Ciao ragazzi, ben ritrovati. Le ultime due partite del Torino, quindi quella di Coppa Italia contro il Milan e la qualificazione anche per certi versi un po' clamorosa, arrivata nel finale dopo 50 minuti di inferiorità numerica e la partita casalinga, persa malamente 1-0 contro lo Spezia, mi portano a fare un discorso sui cosiddetti giovani e la panchina, diciamo le riserve, che valgono poco o valgono zero. Questo non lo dico io, lo dice il mister, lo fa sottintendere nelle conferenze stampa e ce lo conferma implicitamente proprio durante le partite, quando dalla panchina difficilmente vediamo alzarsi certi giocatori. Infatti l'impressione è che il Torino, soprattutto in questo periodo con diversi infortunati, abbia veramente poca scelta e che Iuric abbia poche frecce al proprio arco per cambiare, per esempio, le inerzie delle partite che si mettono male come è successo recentemente proprio contro lo Spezia. E dopo Milan-Torino il matchwinner Michel Adopo era stato esaltato, vedremo se avrà più minuti addirittura. Il suo agente, Ivan Lemè, spero si legga così, era intervenuto a Sport Italia dicendo quando parliamo di Michel, parliamo di un giocatore di altissima qualità. Quella di San Siro è stata una bella serata per lui perché non giocava mai e Tutto Sport il giorno dopo ha raccolto la testimonianza di Bava che ci ha raccontato come il Torino ha messo le mani su Adopo, dicendo che lui aveva conosciuto proprio l'agente ed era riuscito a trattare fino a scendere a 150.000 euro di cifra per il suo cartellino. Adopo lo conosciamo, è un classe 2000 con un contratto in scadenza 2023 che quindi andrà rinnovato in questi mesi, ammesso e non concesso che la società voglia farlo e in tal senso il suo agente ha parlato chiaro, ne stiamo discutendo ha messo insieme complessivamente 149 minuti, 6 presenze, un gol in Coppa Italia, appunto quello di San Siro e a livello tattico Juric, soprattutto nelle micchevole estive, lo è utilizzato anche come braccetto di destra in difesa. Ma Adopo con lo Spezia non ha trovato nemmeno un minuto, non è stato utilizzato nemmeno quando a centrocampo serviva un po' di fisico per non farci mettere sotto dai mediani spezzini non è stato utilizzato per le motivazioni che il mister riterrà più opportune, ci mancherebbe altro su questo non entro, però anche il fatto che fino ad oggi il suo contratto non sia stato rinnovato pare, dicono i ben informati, perché a inizio stagione la gente aveva bussato la società ed era stato rimbalzato, non fa presagire nulla di buono sul futuro di questo calciatore sul quale invece bisognerebbe puntare fortemente, a maggior ragione in questo momento qui in cui non hai Lukic, anzi è notizia delle ultime ore che ha preso una botta, non lo terrà fuori dal campo tantissimo, ma lo rivedremo forse per la partita di Coppa Italia con la Fiorentina, ammesso e non concesso che Lukic sarà ancora un giocatore del Toro visto che si gioca il primo febbraio e quindi in previsione proprio della trasferta invece di campionato a Firenze, la coppia di centrocampo è già scritta, Ricci, Linetti e poi? E poi chi lo sa, d'altronde noi abbiamo delle riserve che non sono affidabili e lo stesso discorso che abbiamo fatto per Adopo può essere fatto per Brian Baieie, anche lui eroe di San Siro appena entrato con quella discesa sulla destra ha fornito l'assist al compagno, poi c'è questa bella foto con i due che si abbracciano e vivono la loro serata da sogno, meritata, cercata, ma Juric ha ritenuto che comunque pur arrivando entrambi sulle ali dell'entusiasmo da quello che era successo a San Siro con lo Spezia non fossero in grado di giocare neanche un minuto, anche su questo io non voglio biasimare il mister perché parto dal presupposto che lui faccia scelte per il bene della squadra, però possiamo dire quindi che San Siro sia per Adopo che Baieie sia stato un momento molto molto romanzato, soprattutto per quest'ultimo. Tra l'altro i due hanno anche una storia comune, hanno infatti condiviso in Francia gli inizi professionali nel torsì, una realtà delle Baieie parigine e dopo la partita Baieie si è detto molto contento, dicendo che in questi mesi ha comunque imparato molto a lavorare con certi giocatori come Vlasic e come Mirancuc, ma Juric prima dello Spezia ha domanda specifica, ha subito detto che per lui il giocatore non è pronto e che dovesse arrivare qualche richiesta non si farà problemi a mandarlo in prestito. Questo cozza un po' anche con le parole di Vincenzo Vivarini, suo ex allenatore al Catanzaro che già quest'estate quando Baieie aveva firmato per il Toro lo aveva dipinto come un giocatore dal sicuro futuro, mentre Juric dopo i primi allenamenti aveva subito detto che bisognava instradarlo perché soprattutto pur avendo ottimi mezzi fisici e aerobici aveva delle carenze tattiche non indifferenti. Carenze che non ha ancora risolto oggi perché se le avesse risolte qualche minuto in più anche lui lo avrebbe fatto. E infatti zero presenza in Serie A, 16 minuti in Coppa Italia con un contratto in scadenza nel 2026, nonostante ciò e nonostante la giovane età, che parliamo di un ragazzo classe 2000, non è mai stato preso in considerazione. Quella di San Siro poteva quindi essere la sliding door come io me lo auguravo nonostante poi si sia rivelato quello che era, cioè giocatori buttati in campo per una esigenza circoscritta e non perché questi due vengono visti almeno in questo preciso momento dal mister. Tanto è vero che non solo Juric ha confermato che Baieie può tranquillamente andare in prestito, ma che proprio il giorno prima della partita con Milan lo stesso Baieie sembrava molto molto vicino al prestito alla regina. Pista della quale non si è più parlato e vedremo se se ne tornerà a parlare da qui alla fine del mercato, ma il punto è un altro, ovvero che la serata di San Siro deve essere considerata per quella che è una notte magica dove le seconde linee sono diventate protagoniste non dico un po' per caso, ma quasi, perché risolvere una partita è più facile che dimostrare sulla continuità, soprattutto se l'allenatore decide che in quel momento tu, per i motivi più disparati, la continuità non la meriti. E quindi semmai le risposte dovrebbero arrivare da qui in poi. Però diciamo che la prima, la partita contro lo Spezia, qualcosina in tal senso ce lo ha già detto. Ora, dopo San Siro si è detto, ah ma Juric ha sempre creduto, ha saputo dosarli, ha saputo trovare il momento migliore per mandarli in campo. Io non ho niente contro il mister, anzi, ma permettetemi di dubitare di questo tipo di narrativa. Semplicemente la partita si era messa in un modo che richiedeva sostanza e capacità di ribaltare il campo, in quel momento e dopo Ibaiaie per caratteristiche sono stati ritenuti funzionali, anche perché se quella sera poi la partita non fosse finita così, ma fosse finita con il verdetto contrario, nessuno avrebbe avuto nulla da dire. Torre in dieci per tanto tempo, sofferenza finale, e quindi ci poteva anche stare che tu uscivi. Per certi versi Juric, mandandoli in campo, non aveva comunque nulla da perdere. E infatti il discorso che nella maggior parte dei casi chi siede in panchina non viene ritenuto all'altezza, lo abbiamo da due fattori nello specifico. Il primo, molte partite sono state terminate in campionato con pochissimi cambi fatti, in alcuni casi addirittura solo due su cinque, oppure in caso contrario allora non è vero che la rosa è corta, cioè Juric si dovrebbe sbugiardare, perché se invece questi venissero ritenuti funzionali e adatti, perché non li ha utilizzati fino ad oggi? Non li ha utilizzati perché lui non li ritiene validi, nonostante quello che sia successo a San Siro. Infatti il discorso non riguarda soltanto Adopo e Baieie, che erano un po' i due giocatori su cui volevo focalizzarmi, ma anche Dembasek, per il quale sembra che comunque ci siano delle richieste di prezzo dalla Serie B. Genoa soprattutto, darglielo senza passare dal via. Lo stesso Caramò, sul quale il Toro non ha mai creduto nemmeno a Monte, tanto è vero che la tipologia di contratto firmata dal trequartista barra esterno ex Parma e Inter parla di un contratto annuale e poi si vede, se ne riparla a luglio 2023. E si potrebbe allungare il discorso anche ai tanti giovani della primavera che salgono in prima squadra soltanto per fare numero. Ma a quel punto lì viene difficile pensare che si possano cambiare le partite o che si possano dominare le partite o che si possano anche solo vincere le partite contro una certa tipologia di avversario, perché al primo episodio storto tu non hai armi per cambiarle. Forse è questo quello che ci ha voluto dire Juric in tutti questi mesi? Io credo di sì, per certi versi non sono d'accordo e chiudo con una considerazione. Perché non sono d'accordo? C'è una motivazione. Perché poi in campo le partite le perdi, con i cosiddetti senatori e i cosiddetti giocatori che hanno più qualità, non in senso generale ma circoscritto alla Rosa del Torino, però le perdi. E le perdi con alcune prestazioni singole da vergogna, come quella di Voivoda, come quella di Gigi e mi limito alla partita contro lo Spezia. E anche il fatto che generalmente ci sono stati giocatori che hanno reso molto molto poco. Ripeto, davvero non c'è un giovane alla Dembélé, alla Ginetis che può fare un tempo contro lo Spezia, anche solo per vedere se con la Verve, con la sua esuberanza, che giustamente da 17 anni, 18 anni, 19 anni, ne metterebbe in campo, può cambiarti l'inerzia della partita? Se la risposta è sì, allora forse Juric dovrebbe rivedere le sue strategie. Ma se la risposta è no, e potrebbe benissimo essere no, la società smetta di lavorare sul settore giovanile. Perché se noi in primavera non riusciamo a avere gente in grado di fare anche solo un tempo in Serie A, significa che non stiamo lavorando bene. E il primo posto nel campionato primavera io non me ne faccio nulla. Non me ne faccio nulla, perché vincere il campionato primavera non conta nulla se poi quei giocatori lì non danno una mano alla prima squadra. Questo dobbiamo averlo sempre molto chiaro. Non tolgo meriti a scurto al lavoro di Luderniani, va bene, va bene, ma il fatto che nessuno possa tornare utile per una squadra significa soltanto che il settore giovanile è un inutile orpello che il Torino foraggia e non si sa nemmeno a questo punto perché. Grazie per avermi ascoltato, buon dibattito se vorrete nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi sui miei canali social e al link del mio secondo canale in cui parlo di altri temi calcistici e lo potete trovare qua sotto in descrizione. Attivate la campana degli aggiornamenti se ancora non l'avete fatto e ovviamente vi leggerò come sempre, molto molto volentieri. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo molto presto e sempre Forza Toro!